ciao benvenuto io sono gabriele quest'oggi ti farò risparmiare un sacco di soldi si hai capito benissimo risparmiare un sacco di soldi perché anche se sono assente da questo canale da un po me ne scuso ma impegni di lavoro mi hanno tenuto lontano appunto dal canale youtube sono tornato per parlarti di amazon prime 2021 grande evento annuale che amazon dedica appunto ai clienti prime che sono veramente tantissimi in tutto il mondo con sconti offerte affari insomma davvero imperdibile allora quest'anno l'amazon prime si svolgerà il 21 il 22 di giugno quindi abbiamo ancora qualche settimana per prepararci a differenza del solito dove ho una scaletta più definita ho veramente preso due appunti al volo che andrò a leggere perché voglio farmi una chiacchierata con te per raccontarti i vari aspetti della realtà prime amazon prime e se però vorrai più approfondimenti ti rimando all'articolo che pubblicherò sul sito qui sotto lo trovi in descrizione se vuoi appunto leggere più nel dettaglio tutto quanto concerne amazon prime però andiamo al dunque come certamente sai anche tu amazon organizza tutti gli anni due grandi eventi le giornate prime che sono ormai da un po di anni sono due non soltanto più una e il black friday che in autunno la differenza sostanziale che nel black friday tutti i clienti amazon possono fare grandi affari grandi sconti ottenere ottimi ottimi prodotti a un prezzo ribassato mentre nelle giornate prime soltanto i clienti che hanno l'abbonamento amazon prime possono appunto usufruirne è un abbonamento che ti offre una serie di servizi aggiuntivi molto molto interessanti che adesso andremo ad analizzare però prima di passare a quello volevo chiarire un punto non è che se non hai ancora fatto l'abbonamento amazon prime devi correre a spendere i 36 euro che in realtà sono un costo assolutamente contenuto per farlo per poter usufruire delle offerte che troverai su amazon il 21 e il 22 di giugno perché amazon ti offrirà ti offre già tuttora un mese di prova completamente gratuito ti basta registrarti ti lascio link qui sotto in descrizione appunto per registrarti il servizio prime potrai usufruire per un mese di tutta la variegata gamma di servizi prime e naturalmente avere accesso alle offerte prime in programma per il prime dei del 21 e 22 di giugno se invece hai apprezzato i servizi prime potrai appunto acquistare l'abbonamento a 36 euro nel caso tu non abbia particolari scontistiche o a metà prezzo quindi 18 euro nel caso tu sia invece uno studente con l'abbonamento prime student come puoi immaginare la carne al fuoco è veramente tantissima e quindi per analizzare i vari aspetti questo video potrebbe essere un pochino lungo però non ti preoccupare nel caso qualche aspetto qualche caratteristica ti sia già nota o non ti interessi non dovrei fare altro che schippare la parte di video che non ti interessa e andare a quella invece cui sei maggiormente interessato qui sotto troverai i vari punti i vari link dove collegarti per vedere la parte di video che più ti interessa ci ho detto passiamo a parlare di prime nella quotidianità prime servizio di amazon anzi fare meglio dire servizi perché sono molteplici servizi consentono di ottenere una serie di vantaggi davvero rilevanti che vanno dalla spedizione gratuita compresa nell'annualità di abbonamento di prime di quanti prodotti vuoi da uno a 10.000 100.000 quanto vuoi comprare non è un problema amazon te lo spedirà gratis perché avrai pagato 36 euro di abbonamento prime appunto annuale a servizi quali prime video con una serie appunto di video film serie tv e quant'altro spesso volentieri in esclusiva prime music con accesso gratuito a milioni di brani che diventano ancora di più con l'opzione prime music unlimited che a pagamento ma nel caso tu sia un abbonato prime potrai ottenere uno sconto audible che sono gli audiolibri proposti da amazon anche in quel caso dopo un periodo di provo gratuito potrai ottenere uno sconto se sei già cliente prime soprattutto in questo periodo davvero molto importante visto che google ha deciso di non rendere più illimitato i caricamenti su google foto l'utilizzo molto molto interessante molto importante ma ne parleremo magari in un video opposito del servizio cloud fotografico proposto da amazon in alta definizione illimitato insomma sono davvero tantissimi vantaggi per chi è cliente prime e magari te li approfondirò meglio nell'articolo che caricherò sul sito ripeto link in descrizione qui sotto e magari in un video dedicato che farò prossimamente però focalizziamo l'attenzione adesso sui prime day te lo ricordo 21 e 22 di giugno due giornate dedicate a sconti affari offerte in anteprima e quant'altro insomma un modo per risparmiare davvero tanti 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 soldi troverai offerte su oltre due milioni di prodotti venduti appunto da amazon tramite amazon offerte davvero ragguardevoli sconti anche che vanno al 40 50 per cento in alcuni casi nelle offerte lampo o anche qualcosa di più offerte lampo lo dice il termine stesso sono offerte particolarmente brevi nel tempo che bisogna cogliere il volo troverai anche altre offerte invece che dureranno per l'intera due giorni e via così insomma c'è davvero da sbizzarrirsi non soltanto prodotti diciamo industriali ma anche prodotti di piccole e medie imprese perché da un paio d'anni già l'anno scorso ma quest'anno si rinnova questo appuntamento amazon ha deciso di collaborare con le pmi quindi piccole e medie imprese proponendo una importante vetrina data appunto dall'e commerce di amazon allora quindi è possibile scegliere ed acquistare su oltre un milione di prodotti realizzati da piccole e medie imprese quindi del territorio aiutare il territorio che causa covi insomma sta attraversando un periodo assolutamente difficile ma non soltanto ne trai anche un vantaggio perché già da ora quindi prima nelle settimane precedenti i prime dei acquistando per almeno 10 euro in prodotti realizzati da pmi da piccole e medie imprese amazon ti regala un buono di altre tanti 10 euro quindi 10 ne spendi 10 te ne ritornano da spendere durante il prime day su prodotti delle pmi o su prodotti in generale prodotti proposti da amazon nel corso di questa ricchissima due giorni le piccole e medie imprese presenti su amazon che quest'anno aderiranno a questa iniziativa di ritorno di cashback monetario 10 euro spendi 10 euro ti tornano in buono sono oltre 300.000 quindi davvero non c'è che l'imbarazzo della scelta poi oltre naturalmente a tutti i prodotti delle pmi ci sono migliaia migliaia di altri prodotti te lo ricordo abbiamo un totale di oltre 2 milioni proposti su amazon da varie aziende che operano con il gigante dell'e commerce mondiale naturalmente amazon oltre a vendere prodotti terzi li produce anche sappiamo tutti che la gamma di prodotti realizzati da amazon è vasta è davvero molto interessante dai kindle per la chi ama la lettura degli ebook a tutta la casa domotica grazie ad alexa dispositivi intelligenti e tutto quello che ruota intorno alla domotica quindi ci saranno davvero grandissimi sconti su tutti i dispositivi della gamma alexa se non li conosci ti lascio un video qui sopra e qui sotto in descrizione dove avevo parlato qualche mese fa appunto della nuova linea alexa che è molto interessante e durante i primi day sarà ancora più conveniente naturalmente se hai già in casa un dispositivo domotico potrai usufruirne anche in chiave appunto di amazon prime day perché basterà chiedere alexa quando sarà il prime day o alexa parlami dell'offerta di prime day e varianti varie di questa frase per far sì che il tuo assistente vocale appunto ti fornisca informazioni e durante i giorni del prime day ti indichi le più interessanti tra le offerte in corso quindi perderle è praticamente impossibile allora il nostro scursus sul prime day in 2021 è quasi giunto al termine però mi restano alcune cose molto importanti che devo assolutamente dirti ovvero che al netto delle tantissime offerte che troverai su amazon il 21 e 22 giugno prossimi potrai già iniziare se sei cliente prime a usufruire di scontistiche particolari perché amazon fa una serie di iniziative di lancio su vari settori nella casa all'abbigliamento all'informatica tecnologia in genere che può l'ambito in cui operiamo noi ti invito per non perderle a seguire il nostro canale telegram trovi qui sotto il link nella descrizione di questo video e ti dettaglierò meglio nell'articolo che troverai sul sito anche in questo caso link in descrizione tutte le varie peculiarità di queste offerte di avvicinamento al prime day se ancora non ti basta tutto questo ed è già moltissimo ti voglio aggiungere ancora qualche dettaglio ad esempio fin da ora quindi da subito non dovrai aspettare il 21 e 22 di giugno potrai usufruire di altre promozioni quale ad esempio se fai una ricarica amazon quindi ti carichi del credito poi da utilizzare per effettuare acquisti di almeno 50 euro amazon ti regalerà un buono sconto spendibile sul sito di 6 euro oppure in alternativa o in aggiunta c'è una pagina anche in quel caso te la lascio qui sotto in descrizione col suo link per ottenere del coupon sconto così come si fa al supermercato normalmente su davvero una grande vastità e quantità di prodotti di più dei tipi più svariati si va dal prodotti tecnologici al detersivo per farti un esempio quindi troverai davvero di tutto con sconti possono arrivare anche al 50 60 per quindi molto interessanti rispetto al prezzo di vendita senza coupon tutto questo ben di dio però lo ripeto ancora una volta perché voglio che questo sia assolutamente chiaro è riservato ai clienti amazon prime sei già cliente amazon prime nessun problema puoi accedere fin d'ora e usufruirne se non sei ancora cliente amazon prime hai due strade come dicevo all'inizio di questo video o appunto attivi un abbonamento spendi 36 euro e ti verrà per tutto l'anno con tutta la gamma infinita di servizi ed offerte correlate agli abbonamenti prime o in alternativa link qui sotto in descrizione per poterlo fare ti puoi attivare un abbonamento di prova un mese completamente gratis in cui potrai usufruire di tutti i servizi prime e se lo attivi ora siamo agli inizi di giugno rientra naturalmente nella mensilità anche il periodo prime day del 21 e 22 quindi potrai usufruire senza dover spendere un centesimo di tutte le possibilità offerte dai prime day e poi per l'appunto nel caso in cui ti dovessi trovare bene e i servizi amazon fossero per te importanti una volta appunto provati testati volessi continuare non dovrai fare altro in quel caso che pagare un abbonamento 36 euro e ti garantisco che dopo 45 spedizioni di prodotti ti ritornano già a casa a tutto questo aggiungi prime video sconti su twitch che è la piattaforma di gioco di amazon amazon music lo spazio di archiviazione illimitato in alta definizione per le tue fotografie i servizi audible legati quindi agli audiolibri e tanto altro è decisamente conveniente però lo ripeto per la milionesima volta per voglio che il concetto proprio sia chiarissimo nel caso tu non sia particolarmente interessato a tutte queste serie di servizi offerti da amazon voglio semplicemente poter usufruire degli sconti del prime day vai qui sotto descrizione link ti registri gratuitamente e avrai dal momento in cui attui la registrazione un mese di tutto i servizi prime quindi compresi gli sconti degli amazon prime day completamente gratuito bene siamo giunti alla fine di questo video io spero in primis ti sia piaciuto in questo caso ti invito per favore a lasciarci un like e iscriverti a questo canale e ad attivare la campanellina delle notifiche in modo da sapere in tempo reale quando pubblicherò un nuovo video tutto questo non ti costa assolutamente niente ma ti garantisco che per noi è davvero molto molto importante in chiave di algoritmo di youtube perché più gente commenta più gente lascia like più gente si iscrive al canale e più questo video va in rotazione gira e visibile e quindi possiamo anche aiutare tra virgolette più persone a approfondire il discorso amazon prime day e quindi risparmiare tanti soldi ti segnalo infine che qui sotto troverai anche un link affiliato cosa vuol dire vuol dire se tu entri in amazon e fai acquisti tramite il link che trovi qui sotto in descrizione te lo riporto appunto con indicazione link affiliato ogni volta che tu farai un acquisto io riceverò una piccola percentuale si tratta del 3 4 per cento dipende dalla tipologia di prodotto a te il prodotto non costerà un centesimo in più lo pagherai esattamente quanto lo pagheresti entrando in amazon normalmente però diciamo che così facendo potrai aiutare questo canale a crescere perché naturalmente eventuale denaro che dovessi ricevere in conseguenza di acquisti effettuati tramite link affiliato verranno reinvestiti nel canale per cercare di migliorare gli aspetti tecnici che lo caratterizzano io ti ringrazio ancora per avermi seguito fino qui ti ricordo e ti invito a darci un like iscriverti al canale per attivare la campagna delle notifiche e ci rivediamo presto e soprattutto tieni d'occhio anche il canale telegram dove nei giorni di prime day pubblicheremo le offerte più calde fra quelle messe a disposizione da amazon ciao alla prossima ciao 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 ciao